L'attività sportiva fa bene al corpo e allo spirito e vi permette di migliorare la qualità della vostra vita. Con queste parole Papa Francesco ha salutato i partecipanti ai prossimi giochi invernali mondiali Special Olympics a marzo in Austria. Partendo dal giuramento dell'atleta Special Olympics, che io possa vincere ma se non riuscissi che io possa tentare con tutte le mie forze, il Pontefice ha riconosciuto che lo sport richiede fatiche e sacrifici, ma fa anche crescere nella pazienza e nella perseveranza, permettendo di sviluppare capacità che altrimenti rimarrebbero nascoste. Lo sport inoltre ci aiuta a diffondere la cultura dell'incontro e della solidarietà. Insieme, atleti e assistenti, ci mostrate che non ci sono ostacoli né barrieri che non possano essere superati. Siete un segno di speranza per quante si impegnano per una società più inclusiva. Ogni vita è preziosa, ogni persona è un dono e l'inclusione arricchisce ogni comunità e società. Questo è il vostro messaggio per il mondo, per un mondo senza confini e senza eclusioni.